facciamo così iscriviti subito al canale e dammi un like sulla fiducia guarda tutto questo video al massimo puoi togliere l'iscrizione like alla fine ti ringrazio sanzione da 1984 a 7.937 euro revoca della patente confisca del veicolo però madonna cosa ho fatto ti hanno fermato durante un controllo stradale e si sono accorti che avevi il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ecco cosa hai fatto non bisogna mica essere chissà quali criminali per beccarsi un trattamento del genere basta essersi dimenticati di pagare un bollo auto una tassa comunale un contributo inps io non sono nessuno è un mio parere personale non voglio dare giudizi però secondo me ci sono violazioni al codice della strada ben peggiori per esempio per me è peggio uno che circola senza l'assicurazione però se ti fermano senza la copertura assicurativa sul tuo veicolo rischi una multa da 866 a 3464 euro e 5 punti della patente e se riattivi l'assicurazione entro 15 giorni paghi solo la metà non vergognatevi può essere successo a tutti se è capitato anche a te di aver ricevuto una cartella esattoriale e dopo aver ricevuto anche un preavviso di fermo sul tuo veicolo scrivimelo nei commenti scrivimi anche come ne sei uscito l'agenzia delle entrate riscossione una volta che sono passati 60 giorni da quando ti ha notificato una cartella di pagamento oppure sono passati 90 giorni da quando ti ha notificato l'accertamento esecutivo può disporre il fermo amministrativo della tua auto può non è obbligata decide se farlo oppure no e come lo fa iscrive al pra il fermo amministrativo sulla tua macchina però per procedere con l'iscrizione al pra del fermo amministrativo sul veicolo l'agenzia delle entrate riscossione per prima cosa deve notificarti una comunicazione preventiva che si chiama preavviso di fermo con la quale ti avvisa che in mancanza del pagamento delle somme dovute dopo 30 giorni eseguirà il fermo amministrativo e come lo fa mediante l'iscrizione del provvedimento al pubblico registro automobilistico ricordati sempre che il fermo amministrativo non ha scadenza dura per tutta la vita del debitore e si estingue solo con la sua morte e in questo caso gli eredi possono chiedere l'annullamento ovvio si estingue anche se paghi nella sostanza il fermo amministrativo del veicolo è disposto per stimolare da parte del debitore il pagamento dei tributi hai capito ti stimolano un po come un massaggio alle spalle o ai piedi io ti propongo 10 casi in cui potete e dovete fare ricorso perché vincere un ricorso contro il provvedimento del fermo amministrativo significa rientrare in possesso della propria auto senza dover pagare ma prima di vedere i 10 modi cerchiamo di capire a chi è che va fatto il ricorso di volta in volta se il fermo amministrativo deriva dal mancato pagamento di multe stradali l'intestatario deve presentare ricorso al giudice di pace quando il provvedimento dipende dal mancato versamento del bollo auto che ricordiamolo è una tassa regionale bisogna rivolgersi alla commissione tributaria il ricorso contro il preavviso di fermo deve essere proposto davanti al giudice tributario corte di giustizia tributaria di primo grado ogni qualvolta il fermo ha come oggetto crediti fiscali di titolarità dell'agenzia delle entrate per esempio debiti per irpef iva irap ires eccetera eccetera ce n'è tante di tasse tassette invece se il fermo dipende dal mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali insomma roba dell'inps il proprietario deve far riferimento al tribunale ordinario sezione lavoro ma vediamo il primo caso allora è nullo il fermo amministrativo del veicolo per mancata notifica della cartella esattoriale mi sembra ovvio insomma oppure anche dell'avviso di accertamento esecutivo perché come abbiamo detto prima decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo l'agenzia delle entrate che poi è la vecchia equitalia può attivare la procedura per iscrivere il fermo dell'auto direttamente al pra sempre che tu nel frattempo non abbia pagato quanto dovuto ci mancherebbe se hai pagato fermati qui non guardarlo se siete sicuri di non aver ricevuto nessuna comunicazione chiedete all'ente che ha proceduto al fermo copia di tutte le notifiche ci deve essere la vostra firma oppure le date certe di quando il postino ha lasciato l'avviso di deposito di giacenza perché vi ricordo magari farò un video su come funzionano le notifiche dopo dieci giorni che il postino ha lasciato l'avviso anche se tu non vai a prendere l'atto in posta il postino può averti anche non trovato o tu lo fai volontariamente dici non mi faccio trovare così la notifica non ha effetto e invece no per legge la notifica si configura dopo dieci giorni vabbè sentite facciamo un paio di esempi così capite meglio allora è nullo il fermo dell'auto iscritta al pra in data per esempio 25 febbraio 2024 se la cartella di pagamento che porta il debito a cui si riferisce il fermo ti è stata notificata per esempio il 10 marzo 2024 oppure il fermo iscritto al pra in data magari non so 25 febbraio 2024 è nullo se la cartella esattoriale era stata notificata in data primo febbraio 2024 questo perché alla data del 25 febbraio non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica che era partita l'uno febbraio 2024 controllate bene tutte le date quando vi arrivano questi atti però parliamoci chiaro e questo è importantissimo non è che se c'è un vizio formale allora automaticamente il fermo è nullo dovete avere una parte attiva nella cosa anche se voi pagate la cartella non si cancella automaticamente il fermo dovete sempre andare al pra voi a chiedere la cancellazione mi raccomando e questo era il metodo numero uno passiamo al metodo numero due ascoltatemi bene perché magari tra di voi c'è qualche professionista che usa l'auto per lavoro in base all'articolo 86 del dpr numero 602 73 il fermo amministrativo non viene iscritto se si dimostra entro 30 giorni mi raccomando le date dal ricevimento del preavviso di iscrizione che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione che si esercita il veicolo deve essere di proprietà però e occorre presentare all'agenzia delle entrate oppure inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno il modello f2 istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale vi lascio il link in sovraimpressione e anche in descrizione del video ovviamente dovete mandare anche tutta la documentazione attestante alla strumentalità del mezzo non è un'autocertificazione dove voi dichiarate vediamo il metodo numero tre va che poi alla fine è quello più fattibile secondo me chiedete la rateizzazione delle cartelle esattoriali allora per evitare il fermo amministrativo e ricorre alla dilazione del versamento delle somme contenute nella cartella esattoriale fate la richiesta tra l'altro se la richiesta la presenti di rateizzazione prima dell'iscrizione del fermo amministrativo la misura non si configura neanche quando ti arriva l'ultima lettera che ti mandano quella che ti dà e 30 giorni di tempo per per pagare non puoi pagare la cifra totale chiede la rateizzazione non ti fanno il fermo se invece per motivi vari si presenta la domanda dopo il fermo quando ormai si è configurato e ce l'hai sul gobbo si sospende il provvedimento per poi cancellarlo con il pagamento dell'ultima rata tu chiedi la rateizzazione ok ti fanno venti rate paghi la prima vai al pra e chiedi la sospensione del fermo puoi tornare a circolare senza incappare in quelle frustate che ho detto all'inizio ok l'importante è che paghi tutte le rate se ne salti qualcuna non saltarne più di cinque anche non consecutive perché se no il fermo riprende effetto hai pagato tutte le rate bene quando paghi l'ultima vai al pra e fai cancellare il fermo dal tuo veicolo prima ti fai rilasciare dall'agenzia delle entrate una quietanza perché se no al pra non ci credono il quarto metodo più che un metodo è un'evenienza potrebbe succedere infatti è nullo il fermo amministrativo dell'auto se è emesso da un ufficio incompetente allora è nullo ogni qualvolta che è disposto da un ufficio dell'agenzia delle entrate riscossione incompetente per territorio questo non lo dico io non lo dice neanche l'agenzia delle entrate ma lo dice la corte di cassazione e la sentenza è quella del 29 3 2017 la numero 8049 vi lascio tutto in sovraimpressione allora facciamo un esempio così si capisce meglio pippo è residente a palermo e qui al suo domicilio fiscale e l'ufficio dell'agenzia delle entrate riscossione di venezia gli notifica un preavviso di fermo amministrativo sulla sua macchina no poro pippo in questo caso il fermo il fermo è nullo perché è stato disposto dall'ufficio di venezia quando invece l'ufficio competente era quello di palermo la numero 5 secondo me è la più bella allora facciamo finta voi vi arriva una cartella da 2500 euro e la vostra macchina magari a 20 anni ne vale 800 allora voi dite ma mi conviene pagare una cartella del genere quindi vi arriva la cartella avete tempo 60 giorni per pagare poi loro decidono di avvisarvi che vi fanno il fermo ok avete ancora altri 30 giorni in totale tre mesi di tempo ma allora io dico in una situazione del genere cosa fate intestate la vostra macchina a qualcun altro un trapasso costa 5 600 euro sempre meglio della cifra che dovete pagare e adesso vi spiego il perché infatti il fermo amministrativo dell'auto è nullo quando l'atto di cessione del veicolo è stato trascritto al pra prima del preavviso di fermo beh mi sembra chiaro no è questo come sempre non è che lo dico io l'ha detto alla corte tributaria di milano con la sentenza numero 6513 del 2016 vabbè ma facciamo un esempio dai allora gargamella è debitore verso l'agenzia delle entrate per 6.000 euro allora per stimolare il pagamento di questo importo l'agenzia della riscossione in data 15 febbraio 2024 iscrive al pra il fermo sull'auto di gargamella però gargamella qualche giorno prima l'aveva venduta a puffetta ok oppure l'aveva intestata a puffetta con atto trascritto al pra il 10 di febbraio in questo caso il fermo è nullo perché risulta iscritto in danno di un soggetto diverso dal debitore semplice alla fine del video farò una considerazione ditemi poi se siete d'accordo comunque vediamo a noi metodo numero 6 intestate l'auto a un disabile perché se al disabile sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 del 92 il portatore di handicap infatti non può essere soggetto a fermo amministrativo anche se non ha pagato nessuna cartella esattoriale lui capite cioè ci sono anche alcune sentenze che dicono che è sufficiente anche la semplice contestazione del veicolo con un disabile la numero 7 a differenza di come vi dicevo prima in tanti altri video vi dicono direi matricolare l'auto all'estero la dovete valutare solo ed esclusivamente se la vostra auto non ha un valore diciamo né economico né affettivo particolare allora vi sarà mai capitato di trovare sul parabrezza il bigliettino da visita di quelli che comprano auto anche da rottamare rottami e anche con fermo amministrativo allora tante sono persone serie tanti no valutate un attimino potete sempre prendere in considerazione di vendere la vostra auto che ha già il fermo a loro ovviamente se la macchina vale 2000 euro non vi danno 2000 euro quelle macchine lì vanno tutte ci pensano però loro ok non fatelo voi vanno tutte all'estero e quindi probabilmente una macchina 2000 euro ve ne daranno se proprio va bene 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 600 700 valutate voi e siamo arrivati al metodo numero 8 nullità del fermo amministrativo sul veicolo del lavoratore dipendente e che è indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro allora è nullo il fermo amministrativo su un'auto utilizzata da un lavoratore dipendente per recarsi sul luogo di lavoro che dista qualche decina di chilometri dal luogo di residenza e in mancanza e questa la dovete dimostrare di mezzi di trasporto alternativi sia pubblici che privati allora in questa evenienza qua il veicolo deve essere considerato a tutti gli effetti un mezzo strumentale ok prima era strumentale perché magari avevate una ditta non lo so il panettiere che consegna il pane qua è strumentale per la proprio la vostra sopravvivenza perché senza macchina cioè non potete andare a lavorare non potete fare la spesa non potete morire di fame no ok e quindi è indispensabile anche per lo svolgimento soprattutto dell'attività lavorativa e quindi su di esso non può essere a posto il fermo amministrativo come sempre non lo dico io lo dice la corte tributaria di milano la sentenza è la 9202 barra 2014 ma lo dice anche la corte tributaria di roma con la sentenza 2144 del 2018 vi lascio tutto in sovraimpressione ma anche in questo caso non è che prendete un foglio e scrivete voi allegate dei documenti dimostrate che dovete fare tanti chilometri che usate voi dovete dimostrare all'agenzia che usate l'auto per spostarvi per motivi di lavoro oppure gravi motivi familiari ok poi la documentazione che comprovi l'assenza di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il luogo di lavoro anche una documentazione fotografica che comprovi la natura del veicolo vostro come strumentale all'attività svolta se avete una porsche 911 non potete farla passare che la usate per andare a consegnare il pane mi raccomando secondo me non ve lo accetto questo è interessante metodo numero 9 l'ho messo in via del sollecito in caso di debito inferiore a 1000 euro allora nelle riscossioni sino a 1000 euro il fermo deve essere preceduto in base all'articolo 1 comma 544 della legge 228 del 2012 ve lo lascio in sovraimpressione ovvio deve essere ok preceduto da un sollecito di pagamento almeno 120 giorni prima l'ho messo in via del sollecito costituisce un vizio del fermo ma eccoci al metodo numero 10 l'ultimo metodo che ti porto oggi questi sono tutti i metodi legali mi raccomando non abbiate dubbi annullamento della cartella accertamento allora è ovvio la cartella del pagamento è un atto presupposto ok rispetto al fermo quindi non può succedere un fermo se prima non hai avuto non hai ricevuto una cartella di pagamento ok quindi l'annullamento della cartella comporta automaticamente il venir meno del fermo alle stesse conclusioni si deve giungere per l'accertamento esecutivo guarda esempio pratico allora ogni tanto il governo picchia lì dal 2010 al 2015 basta via sanatori tutte le cartelle sotto i mille euro dal 2015 fino al 2017 state attenti dovete sempre rimanere sul pezzo cosa vuol dire che in automatico questa volta lì siete soggetti passivi l'agenzia riscossione cancella in automatico le cartelle che voi avevate in capo a voi ok sotto i mille euro però non è che vi avvisa con una lettera ma magari nel frattempo vi avevano già fatto il fermo allora cosa succede c'è la sanatoria la cartella si estingue ma il fermo rimane ok sei tu che devi andare al pra e chiedere la cancellazione portando la cartella ok e dimostrando che con la cartella lì il governo aveva fatto la sanatoria quindi la cartella non esiste più e quindi è in debito anzi illecito anche il fermo se non lo fai continuerai a girare col veicolo sottoposto a fermo e rischierai grosso puoi anche vendere il veicolo a qualcun altro però il fermo non è che si toglie rimane sulla macchina quell'altro ti compra una macchina a te ok e poi si accorge perché magari ti hai dimenticato di dirglielo che c'è il fermo potrebbe chiederti in sede civile previa la restituzione dell'auto indietro i soldi mi raccomando non vendete facendo finta di niente macchine col fermo ad altri privati però adesso vorrei fare una considerazione con voi scusate facciamo finta tu sei un operaio guadagni 1500 euro al mese però purtroppo per motivi x della vita le cose ultimamente non ti vanno bene hai divorziato da tua moglie e il giudice ti ha obbligato ad andartene dalla casa di proprietà dove stai pagando tu il mutuo ok devi andare a vivere in affitto perché la casa rimane a lei e ai bambini tu guadagni 1500 euro di stipendio 500 di mutuo e la casa non te la godi poi ne paghi se sei fortunato hai trovato magari un mono 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 locale in affitto a 250 ok te ne rimangono 750 il giudice ti ha condannato a pagare le spese al di là di quelle dei figli ma ti ha condannato a pagare anche il mantenimento alla tua ex moglie altri 500 euro cosa ti rimane dovrai far la spesa dovrai far la benzina o il gasolio nella macchina ti arriva una cartella ok magari da 600 euro perché due anni fa non hai pagato l'immondizia oppure ti sei dimenticato di pagare un bollo della macchina ma due anni fa te avevi la testa da tutt'altra parte stavi litigando con tua moglie la tua situazione familiare non era delle più rosee e quindi ti sei dimenticato secondo me non sei un criminale in uno stato civile una persona in una situazione del genere va aiutata e invece no ti arriva una cartella esattoriale e poi ti arriva un preavviso di iscrizione di fermo del tuo veicolo e tu quel veicolo lì lo usi per andare a lavorare per pagare tutte le spese che ti ho detto prima ma come fai ti arriva una cartella da 600 euro tu ne hai solo 200 250 e non hai ancora fatto la spesa la benzina come fai a pagarla ci può stare che una persona in un periodo della sua vita si trova in difficoltà come si è trovato in difficoltà il signor robertino gialli un po di anni fa noto pilota di motociclismo uno che guadagna centinaia di milioni di euro all'anno e si vede recapitare una bella richiesta agenzia delle entrate signor robertino lei ci deve dare 25 milioni di euro 25 milioni di euro ma perché io risiedo in svezia mica in italia e ma no a noi risulta che lei per la maggior parte dell'anno risiede in italia no 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 vi state sbagliando in italia vengo solo a natale per salutare la nonna in buona sostanza gli avvocati e i commercialisti del robertino che è gente sgammata ok non come noi gli chiede all'agenzia delle entrate agenzia delle entrate ascolta ti dobbiamo 25 milioni di euro te ne diamo solo 6 dai facciamo uno stralcio dai agenzia vieni mi incontro l'agenzia tenta di tenere duro e farsi dare tutti i 25 ma poi alla fine cosa fanno ascolta robertino me ne devi dare 25 me ne offri 6 dai chiudiamo a 7 amici come prima a loro non gli mandano il previso di fermo per la ferrari la porsche la bugatti lo yacht ma a te e a me che siamo due pezzenti se devi pagare 600 euro di cartella esattoriale dimmelo te provaglielo chiedere te se puoi fare uno stralcio dai te ne devo 600 ti do solo 70 euro loro non ti rispondono va bene dai chiudiamo a 90 amici come prima mi dispiace operaio non faccio operaio mi dispiace se devi pagare l'affitto io non pago affitto ma questa cartella la devi pagare altrimenti la macchina va va vu va ciao amici alla prossima grazie